Erbe, natura da mangiare, poligonace e plantaginace. Oggi vediamo due poligonace, dal greco poli, molto, e gonunodo, perché molte specie presentano molti nodi. I nodi sono il punto in cui si inserisce la foglia, come vedete nella foto centrale, e nelle poligonace spesso sono un po' gonfi e coperti da una guaina fogliare. Le foglie sono alterne e il frutto è un acenio, cioè un frutto secco, piccolo, contenente un solo seme. La prima poligonace che vediamo, la conoscete penso tutti, è rumex acetosa, l'acetosa o erba brusca. Il nome rumex vuol dire lancia e deriva dal fatto che molte di queste piante hanno foglie simili alla punta di una lancia. L'acetosa ha le foglie della rosetta basale, che vedete nella prima foto, dotate di un lungo picciolo. Poi dalla rosetta basale si sviluppa il fusto che porta il fiore, e qua le foglie invece sono senza picciolo, vedete, ma con due protuberanze qui, che un po' abbracciano lo stelo. I fiori sono... le piante possono avere i fiori femminili o i fiori maschili. I fiori maschili sono rossastri e i fiori femminili invece sono più chiari. E il frutto è questo. Diciamo, sia il fiore maschile che il frutto danno questo caratteristico colore rosso alla pianta, che quando la vedete in un prato, vedete l'ambiente in cui cresce, la vedete nella terza foto, insomma si vedono questi pennacchi rossi che spuntano dal prato e quindi è facilissimo trovarla. Però vi ricordo che quando si consuma si devono sempre prendere le foglie tenere di una piantina giovane. Ci sono altri rumex dalle nostre parti, la cetosella nella prima foto, che ha le foglie molto piccole e con queste due alette, vedete, che spuntano a lato, quindi hanno una forma molto caratteristica. In centro vediamo il romice comune, che invece è una pianta grande, con foglie molto grandi e ovali, cioè non hanno quelle due protuberanze alla base della foglia. E poi, nell'ultima foto, vediamo il romice crespo, che ha le foglie allungate dal bordo un po' ricciato. In ogni caso, tutti i rumex sono commestibili, anche se il migliore è l'acetosa. L'acetosa è ricca di vitamina C, molto ricca di ferro e un sapore un po' acidulo, da qui appunto il nome acetosa. Le foglie, quando sono giovani, tenere, si possono mangiare crude in insalata, oppure cotte come gli spinaci, per fare dei contorni, delle minestre e delle frittate. Si può preparare anche una specie di salsa verde, per accompagnare il pesce o la carne. Si può fare un pediluvio, facendo un decotto di acetosa, aggiungendolo all'acqua del pediluvio, per favorire la circolazione. Oppure, si può utilizzare, fresca e un po' spezzettata, come trattamento depurativo della pelle. Attenzione, l'acetosa contiene ossalati, e quindi non va bene per chi soffre di calcoli, non bisogna mangiarne in modo eccessivo. L'acetosa è sempre stata consumata, comunque, da tempo in memore, e ne vendono anche i semi. L'acetosa che si coltiva contiene meno ossalati rispetto a quella selvatica. Vediamo un'altra poligonacea. Poligonum aviculare, centinodia o erba correggiola. Centinodia deriva dal fatto che, appunto, ha i nodi molto evidenti, come dicevamo già dal nome poligonum. E aviculare da avi su uccello, perché i suoi semi sono molto graditi agli uccelli. Questa è una pianta strisciante, a foglie alterne, ed è glabra, con molti nodi evidenti, dicevamo. I fiorellini sono minuscoli, bianco-veredastri. E l'ambiente sono le stradine, perché è proprio una pianta che sopporta bene anche il calpestio, quindi cresce nelle fughe dei marciapiedi, nelle aiuole non curate e nei campi coltivati. Attenzione a non confonderla con una pianta che le assomiglia un po', che è un'euforbia, l'euforbia prostrata. L'euforbia, però, sono tutte piante velenose. Anche a prima vista possono sembrare simili, però intanto l'euforbia può presentare questa macchietta sulle foglie, vedete? E poi, se la osservate da vicino, ha questo fiore particolare, che si chiama ciazio, che invece, vedete, con queste strutture rotonde, che invece il centinodia non ha. Il centinodia può essere mangiata cruda, sminuzzata in insalata quando è molto giovane, cotta come verdura, centrifugata e bevuta col succo di frutta. E si può fare una tisana con le foglie. E' diuretica, vermifuga e sembra utile per prevenire i calcoli. Adesso vediamo la plantaginacea, plantago lanceolata, o piantagine lanciola in italiano. Lanceolata vuol dire che ha le foglie a forma di lancia. Quindi questa pianta, appunto, ha le foglie inizialmente ovali, ma poi allungate. I fiori sono portati in spighe corte, compatte, vedete nella fotografia in centro, e partono a fiorire dal basso, come si vede nella prima fotografia, e poi pian piano la fioritura sale verso l'alto. E queste sono le foglie fotografate in inverno, quando ancora non c'è lo stello fiorale. Sono molto facili da riconoscere, perché presentano queste tre o cinque venature molto evidenti e parallele tra di loro. L'ambiente tipico è quello dei prati. Da noi è comune anche quest'altra piantagine, la piantagine maggiore, che si distingue perché ha le infiorescenze, vedete, molto più allungate, e le foglie più larghe e rotondeggianti. Comunque anche questa è commestibile, anche se è meno tenera rispetto alla piantagine lanciola. Si può mangiare cruda in insalata, quando è molto tenera, bisogna prendere soprattutto le foglioline centrali della rosetta basale, oppure si può fare anche un pesto con la pianta cruda. Invece è cotta, si può utilizzare in minestre, nei ripieni, nei ravioli, per fare torte salate, oppure mangiata come gli spinaci, in padella. I boccioli, quando non sono ancora fioriti, possono essere mangiati o cotti al vapore o crudi, e hanno un vago sapore di champignons. Strofinata sulla pelle, lenisce l'irritazione delle punture di insetto, perché ha delle proprietà antinfiammatorie e antiprorito. Quindi è antinfiammatoria, come dicevo, è cicatrizzante, e le foglie fresche, messe, spezzettate, messe direttamente sulle ferite, vanno bene appunto per favorire la guarigione, magari tenute in sede con un bendaggio. Invece, contro le infiammazioni delle vie respiratorie, possono essere utilizzate in tisana. Vi ricordo, che prima di utilizzare le piante, bisogna sempre essere molto sicuri del riconoscimento, informarsi sugli usi da altre fonti, perché il parco declina ogni responsabilità per l'uso che farete di queste erbe, per eventuali mancati riconoscimenti. Buona osservazione!